Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Come sempre prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto, se volete provare il gioco completamente gratuito Link in descrizione, link che vi darà accesso all'incrociatore Diana Premium Sovietico di livello 2 E alla corazzata Warspite, corazzata inglese sempre Premium di livello 6 Più una serie di vantaggi, basterà semplicemente giocare per ricevere il tutto Link in descrizione Oggi partita con la Jean-Bert, corazzata Premium francese di livello 9 Che si può acquistare nell'armeria con il carbone Siamo accompagnati per questa avventura da Nocivo con l'Alabama e da Richard con la Buffalo Siamo in un matchmaking molto interessante Non ci sono navi di livello 10, il che è una cosa molto positiva Abbiamo due cacciatore perinieri, abbiamo una portaerei E siamo nella mappa Lacrime del Deserto Modalità Epicentro aggiornato Quindi molto importante sarà gestire anche il settore centrale Cosa dobbiamo dire sulla corazzata Jean-Bert? È una corazzata che io ho sempre consigliato È molto interessante, è molto potente, è molto redditizia, è molto bella Insomma una nave positiva sotto tutti i punti di vista Entriamo più nel dettaglio Abbiamo il classico boost francese che ci permette di aumentare la velocità Con il tasto U Con il tasto Y andiamo praticamente a dimezzare quello che è il tempo di ricarica della nave Con la batteria principale Quindi non so, dovete fare due colpi in rapida successione con le AP Lo attivate e quindi sparerete il colpo successivo alla metà del tempo E poi recuperiamo vita quattro volte Abbiamo due cannoni principali di prua Non abbiamo torrette di poppa Quindi è una nave che ovviamente deve giocare di punta O comunque sia deve fare i conti con l'angolo di tiro dei cannoni stessi Continuiamo ad avanzare sul settore di destra Ovviamente tutto quello che vedrete Tutte le giocate che vedrete Sono state organizzate Ovviamente in Come dire Eravamo in totale sincronia Per cercare di gestire nel migliore dei modi la partita L'Akazuki Ecco già quando vedi un Akazuki Che perde tipo 10.000 punti Nel primo minuto Già ho detto Eh qua le cose si mettono subito male Perché ovviamente È un obiettivo molto facile Con il prossimo attacco Molto probabilmente Andrà Andrà giù Un radar Un radar Utilizzato dal giocatore Sulla destra Se guardate la minimappa A sinistra Se guardate L'avanzata delle nostre navi Che sinceramente non va a pescare nulla Semplicemente perché I due cacciador penieri nemici Sono entrambi Nello stesso identico punto Il che è una cosa molto interessante Se avete tiro sui cacciador penieri Anche se siete una corazzata Dovete sparare cacciador penieri Quindi Non conservate colpi Qui l'Akazuki E lo dissi anche durante La partita stessa Non ho capito cosa stava facendo Perché se il suo obiettivo Era di rimanere invisibili Ovviamente non doveva Non doveva muoversi Tu metti il fumo Rimani fermo E quindi non vieni spottato Ma Se tu continui a muoverti Ovviamente poi vieni spottato E quindi Non serve assolutamente a nulla Andiamo a fare 4760 punti Contro il Minsk Avversario Qui veramente facciamo L'impossibile Sul cacciador penieri Piccolo Rapido E tra l'altro Avevo le AP Comunque sia Va bene Vedete che La nostra povera Akazuki CVD Come voleva si dimostrare Avevo già messo in conto Che non ce l'avrebbe fatta Nella maniera più assoluta Se fosse stato all'interno del fumo Qualche probabilità di successo Di sopravvivenza Poteva anche averla Ma così camminare E muoversi all'impazzata Ovviamente non è una cosa Che fa bene Fa bene invece Questo Vanno bene questi colpi 11300 3 perforazioni contro una magica Corazzata giapponese Di livello 8 Ma il bello deve ancora arrivare Tenete d'occhio Un po' tutto Il punteggio Tenete d'occhio La posizione delle navi Tenete d'occhio Le nostre navi Il nostro punteggio Veramente Aprite bene gli occhi Perché è una partita Che ha dell'incredibile E io ancora Rivedendola Per registrare Non ci voglio credere Cosa succede In questo preciso istante Noi siamo Fondamentalmente Bloccati Sul settore di destra Perché mai saremo bloccati Perché abbiamo La squadra nemica Che sta facendo Una giocata un po' speculare Sulla colonna Tre Con L'isolotto Che vedete Qui attivo Il tasto magico Per lanciare Per sparare Nuovamente Con i miei cannoni principali Arrivano i siluri Da sinistra Siluri che ovviamente Sono stati lanciati Da quei cacciator penieri Sulla sinistra Per l'appunto Andiamo a fare Una buona Una buona cittadella Sull'incrociatore Nemico Sfortunatamente La kill Non arriva Per 131 punti Il che Già ho detto Vabbè dai Mi state prendendo in giro Deve essere uno scherzo Ditemelo Che così ci vediamo Colpo devastante Ripeto Colpo devastante Della Georgia Sul Don's Coy Probabilmente Stava dando il lato Probabilmente Non lo so Fatto sta che abbiamo subito Una perdita Importantissima Un radar A lunga Gittata Una nave Che può Assorbire colpi Una nave Di livello 9 Una nave Insomma Una perdita Che nella maniera Più assoluta Non doveva esserci Andiamo a vedere Tramite il radar Del nostro compagno E la ricerca Idrofonica Accompagnata Perché dobbiamo capire Effettivamente Le intenzioni Del cacciator penieri MISC Quello famoso Che stavamo sparando All'inizio Eccetera Andiamo a perdere Un'altra nave Andiamo a perdere La corazzata Sul settore di destra Sempre guardando La minimappa Quindi colonna 8-9 Sta succedendo Quello che non doveva Succedere Ovvero Lo sfondamento Da parte Dei nemici Noi siamo Completamente Isolati E bloccati Dali nemici Che abbiamo davanti Dei cacciator penieri Che non vedono l'ora Di mandarci Qualche confetto Qualche siluro Contro la nostra nave E quindi veramente Dobbiamo sperare Che il lato destro Tenga il più Possibile Cittadella Contro la Chiapayev Qui veramente Cercavo di fare L'impossibile Armi secondarie Sul MISC Per cercare di Levare una nave Dalla partita Tra l'altro Le armi secondarie Della John Bart Sono molto efficaci Vedete entrano in gioco Anche quelle di poppa Esperto di scontri Ravvicinati Abbiamo perso Un'altra nave Non ci voglio credere Una Sims B Per quanto noi Ci Diciamo Ci stiamo Sforzando Sul settore Di destra Sul set No Di sinistra Guardando la minimappa Sul settore di destra Le cose Stanno precipitando Nella maniera Più brutta E immaginabile Abbiamo perso la York La portiere Un'altra kill Esce il cacciatore Sorpediniere Davanti a noi Abbiamo le AP Pronte Abbiamo il tasto Magico pronto Abbiamo tutto pronto Abbiamo le armi secondarie Veramente Una partita Che ha dell'incredibile Stiamo tankando Contro praticamente Un'intera squadra Nemica Andiamo a mettere a segno Una kill Molto efficace Sulla Shirazuglio Però Abbiamo un però Stanno avanzando In Uno Due Tre Quattro Sono cinque navi Che abbiamo Davanti a noi Noi siamo Tre Tre Che giocano insieme Più un quarto Giocatore Sulla destra Che non gioca con noi Purtroppo qui Vado a mangiare Un siluro Che Non ci voleva Nella maniera più assoluta Vado a perdere 10.000 punti vita Sta avanzando L'Alabama Sta avanzando La Richelieu Sta avanzando La Maggi Siamo sparati Dalla Sharnost Sharnost Confusione più totale Il Seattle Va a timbrare La Sharnost B Dall'altra parte Veramente Tra poco Saremo accerchiati Qui veramente Siamo Tre Contro cinque Ci abbiamo Abbiamo quell'incrociatore Però voglio dire Insomma Non è che sta facendo Più di tanto La Georgia Va a distruggere La Tirpitz Noi portiamo A casa Confederato Siamo Circondati Riceviamo Incredibilmente Nel In chat Non so cosa scrivono Abbiamo contro L'Alabama Guardate Vi rendete conto In che situazione Ci stiamo trovando Un'Alabama La Richelieu E la Maggi Il nostro Alleato nocivo Spinge Sul settore Di sinistra Mette a segno Una buona Kilo Sull'Alabama Un commento Rapido Perché quello Che succede È incredibile Abbiamo davanti A noi La corazzata Francese E abbiamo Anche La Maggi Se il nostro Alleato Avesse avuto Un'altra Corazzata Ovviamente Sarebbe stato Molto più facile Però con un Incrociatore Diventa Molto Molto Più Complicato Senza scordare Le due navi Sulla colonna 2 e 3 Perché non è che Sono scappate Sono sempre Presente Abbiamo il lato Della Maggi Quindi andiamo su di lui Spariamo 17878 Cerchiamo di andare avanti Al Richelieu Perché dobbiamo Chiudere la Maggi Qui ovviamente Diamo un po' di fastidio Al nostro alleato Che non ha tiro Sulla corazzata Francese Vedete che mi metto davanti Però È importantissimo Cercare di chiudere La Maggi Siamo a 115.000 Dani Due cittadelle Prendiamo un colpo Lo assorbiamo Come possiamo 1.300.000 Abbiamo tankato Le armi secondarie Sparano all'impazzata Spariamo contro La Maggi Ci portiamo a casa La kill La cittadella Tre incendi Armi secondarie Ancora una volta Che sparano Dobbiamo chiudere In qualche modo La corazzata francese Non ci voglio credere Mi sto facendo Prendere anche dal commento Guardate cosa Abbiamo il tiro Pronto Un'altra kill Non ci voglio credere Abbiamo Stiamo facendo Piazza pulita Delle navi Davanti a noi Eravamo tre giocatori Contro tutti Il che ha Dell'incredibile Armi secondarie Nel frattempo Sul settore Di destra La situazione È peggiorata In una maniera Incredibile Abbiamo perso Praticamente Tutte le navi Che avevamo Quello che non doveva Succedere Andiamo a sparare Contro la chapa Iev Cerchiamo di mettere A segno Un colpo Un colpo La cittadella Una nave distrutta E un kraken Incredibile Non ci voglio credere Non ci voglio credere Siamo rimasti In due Contro cinque Abbiamo la Sharnos Davanti a noi Che viene sparata Da tutti i colpi Che abbiamo a disposizione Rimane a 193 E poi viene distrutto Dal Baltimore Che precedentemente Era stato distrutto Da un'altra nave Quindi veramente Potevano essere Sette kill Se considerate Quello lì Che era rimasto A 131 A questo qui Potevamo essere a 7 Siamo a Cinque kill Non abbiamo Nessun punto di capo 165 A 800 Una partita Veramente Incredibile Non ci voglio credere 172 mila Danni Siamo 2 contro 4 La cosa La sfortuna È che il tempo Purtroppo È contro di noi Perché qui Verosimilmente Verosimilmente Potremmo Distruggere Ancora Una nave Ovvero L'Alaska B Se solo Avessi Un tiro pulito Potrei Beccarla In maniera Efficace Abbiamo Penso Fatto una partita Che ha dell'incredibile Sul settore Di destra Eravamo 3 contro Praticamente Un'intera squadra Prima Serraiata Dietro Isolotto Poi ha provato La pusciata Violenta Ma è stata Respinta In maniera Molto efficace Qui ovviamente Arrivano anche Le aereosiluranti Nemiche Tra l'altro Abbiamo perso Anche la porta aerei Non so neanche Come l'abbiamo persa Bastava semplicemente Diciamo Che si fosse Spostata Sul settore Di destra E avremmo Fatto Avremmo Avuto ancora La porta aerei Della nostra parte Parte Già 3 contro 4 Sarebbe stato Più fattibile Spariamo Contro La Seattle Proviamo A fare Non so Dammi qualcosa Grosso calibro 2330 Due perforazioni Eccessive Abbiamo Tiro Sulla Lasca No Non ce l'abbiamo Più Abbiamo il tasto Magico A breve Dai un'altra Kill Sfortunatamente Andiamo a perdere Il nostro compagno Che ha dato Veramente tutto Il punteggio Verete che sta Aumentando Dei nemici Siamo 95 A 975 Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa partita Epica Secondo il mio punto Di vista Andiamo a vedere I risultati Posto scontro Un ringraziamento Va anche ai miei compagni Di clan Che mi permettono Di registrare Delle partite Molto divertenti In compagnia Video terminato Io come sempre Ragazzi Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao